Dunque, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Scusate il ritardo che era dovuto, diciamo, al rispetto nei confronti del Presidente della Repubblica che intanto era impegnato per le celebrazioni del giorno del ricordo dei martiri delle foibe degli esuli di Istra, Fiume e Dalmazia. Grazie. Ovviamente non posso non partire anche io da un ricordo delle vicende del nostro confine orientale. Tra l'altro, nella giornata di oggi, il Palazzo del Governo, cioè il Palazzo Chigi, sarà colorato di tricolore con una scritta, io ricordo, proprio in memoria degli esuli e quindi credo fosse giusto attendere il Presidente della Repubblica per iniziare questa conferenza stampa, che ho tenuto a fare perché sono, come ho detto, ai temerari che erano ancora lì alle tre di questa mattina della notte scorsa, sono molto contenta dei risultati ottenuti dall'Italia in questo Consiglio europeo. Sono estremamente soddisfatta di importantissimi passi in avanti che ritengo l'Unione europea e il Consiglio europeo abbiano fatto su alcune materie che erano particolarmente delicate nella discussione che si teneva ieri al Consiglio europeo. Voi sapete che c'erano tre grandi materie in discussione nel Consiglio europeo, ovviamente la vicenda ucraina che ha visto ieri l'importante presenza del Presidente Zelensky, che è venuto a parlare al Consiglio europeo e credo che l'immagine di compattezza che è stata data ieri sia un segnale molto molto importante. Chiaramente all'interno della dinamica del Consiglio europeo sulla vicenda ucraina c'è ovviamente anche nelle conclusioni del Consiglio europeo la conferma del pieno sostegno alla causa ucraina, alla sovranità, alla libertà del popolo ucraino e quindi è stato ribadito a 360 gradi non solo la compattezza dell'Europa da questo punto di vista ma anche il fatto che l'Unione europea intende rimanere al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario e con tutti gli strumenti che saranno necessari. Voi sapete che da questo punto di vista l'Italia ha tenuto sempre una posizione estremamente chiara estremamente coerente, sapete che il nostro impegno a sostegno dell'Ucraina è un impegno a 360 gradi è un impegno che riguarda il fronte finanziario, umanitario, civile, militare e anche ieri al Presidente Zelensky con il quale ho parlato abbiamo ribadito questa nostra piena disponibilità ma era importante che al di là dei singoli stati lo facesse il Consiglio europeo nel suo complesso e quindi è una giornata molto importante da questo punto di vista. Dopodiché le altre due grandi materie in discussione al Consiglio europeo come sapete che considerano la materia economica e la materia migratoria. Economia. La discussione sulla competitività del nostro sistema produttivo, delle nostre aziende, delle nostre industrie nasce nel precedente Consiglio europeo. È una discussione strategica molto importante che anche l'Italia ha caldeggiato ritenendo che ovviamente le crisi alle quali siamo stati, che abbiamo fronteggiato in questi anni necessitino di una discussione strategica sulle priorità che l'Unione europea deve darsi. Entra nella discussione ad esempio la questione delle catene di approvvigionamento che io ho più volte posto all'interno del Consiglio europeo, cioè ritengo che la vicenda ucraina con l'energia ma ancora prima la crisi pandemica ci abbiano insegnato come il continente europeo per recuperare una propria piena sovranità debba anche porsi il problema delle catene di approvvigionamento strategico perché se non si controllano le catene di approvvigionamento strategico si rimane in balia degli eventi. Questa è una discussione che oggi è molto presente nel Consiglio europeo e credo che sia particolarmente importante. Dopodiché ovviamente anche per fronteggiare le conseguenze delle scelte che altre potenze stanno facendo il riferimento all'Inflation Reduction Act americano è uno di questi ovviamente per sostenere le loro economie di fronte alle difficoltà che sono generate anche dalla crisi internazionale noi abbiamo avviato una discussione per capire come si potesse rafforzare anche la resilienza e la competitività delle nostre imprese. Ovviamente le soluzioni che si sono immaginate tra i diversi Stati membri sono diverse e sono molto orientate anche alle possibilità che ciascuno Stato ha. Voi sapete che c'era aperta una discussione che riguarda il tema dell'allentamento degli aiuti di Stato particolarmente richiesta da alcune nazioni che hanno un maggiore spazio fiscale e che quindi allentando le norme sugli aiuti di Stato possono con maggiore facilità aiutare le loro imprese che ovviamente è una soluzione che rischia di avere anche delle conseguenze che bisogna monitorare in termini di tenuta del mercato unico, in termini di pari condizioni per le altre nazioni. Questa è una questione che l'Italia ha ampiamente posto chiedendo che intanto all'allentamento degli aiuti di Stato fosse circoscritto, temporaneo, limitato e in secondo luogo che vi fosse anche la capacità di dare a un problema europeo una risposta europea perché l'allentamento degli aiuti di Stato rischia di essere una risposta nazionale è un problema europeo. Per questo noi abbiamo chiesto che la Commissione faccia una proposta su un fondo sovrano europeo, cioè su un fondo europeo dedicato alla sovranità strategica dell'Unione Europea questo elemento entra nelle conclusioni del Consiglio ma siamo anche consapevoli di come un fondo del genere richiede del tempo e noi non abbiamo tempo. Quindi ci siamo interrogati su come si potesse anche per le nazioni che hanno un minore spazio fiscale creare uno spazio fiscale ed è quello che siamo riusciti a ottenere nelle conclusioni di questo Consiglio, cioè la proposta italiana era oltre a quella del fondo sovrano la possibilità di una flessibilità sui fondi esistenti. Vale a dire noi abbiamo dei fondi attualmente già stanziati che vanno dal Repower U al Next Generation U passando per i fondi di coesione quello che abbiamo chiesto è la possibilità di utilizzare appieno queste risorse per ovviamente concentrarle sulle priorità che abbiamo. E l'altra grande questione che abbiamo posto e che stanotte siamo riusciti a far entrare nelle conclusioni del Consiglio, poi se volete io vi dico nello specifico quali sono le parti di testo che sono oggetto delle questioni che ha posto l'Italia, che sono molte, abbiamo chiesto anche che nella futura discussione sulla riforma della governance, cioè del patto di stabilità e crescita si tenesse conto delle decisioni che venivano prese. E cioè a dire è ovvio che nel momento nel quale la risposta per nazioni che hanno un minore spazio fiscale è la possibilità del pieno utilizzo dei fondi esistenti rimane il tema dei confinanziamenti nazionali. Perché se poi i confinanziamenti nazionali che io utilizzo per liberare queste risorse impattano sul rapporto deficit-pil, il problema rimane. E quindi noi abbiamo chiesto che di questi elementi si tenga conto nella discussione sul patto di stabilità che ovviamente non era una discussione di ieri perché voi sapete che non era tema all'ordine del giorno e sarà probabilmente tema dei prossimi consigli europei, però siamo comunque riusciti a inserire questo elemento cioè si tenga nella riforma del dibattito, sul patto di stabilità e crescita conto delle decisioni che sono state prese perché quelle decisioni possano essere il più possibile implementate. Quindi io devo dire che col tema di aiuti di Stato, di limitare e di rendere temporanei gli aiuti di Stato con il tema del fondo sovrano, con il tema della flessibilità, con il tema del dibattito sulla governance la posizione italiana sulla materia economica è pienamente entrata e con la vicenda delle catene di approvvigionamento la posizione italiana è pienamente entrata nelle conclusioni del Consiglio europeo. E penso che possiamo essere molto soddisfatti di questo risultato e ancora di più penso che dobbiamo essere soddisfatti del risultato che riguarda il tema dell'immigrazione. Sulla vicenda dell'immigrazione la giornata di ieri stabilisce un principio e cioè che si cambia l'approccio. L'approccio del Consiglio europeo nelle conclusioni del Consiglio europeo è molto diverso da quello che noi abbiamo visto negli ultimi anni. L'approccio che il Consiglio europeo mette nero su bianco nella giornata di ieri parte da una frase che non si era mai riusciti a mettere su un documento di questo tipo. L'immigrazione è un problema europeo e ha bisogno di una risposta europea. Questo dal mio punto di vista cambia moltissime cose nell'approccio europeo alla questione migratoria ma ovviamente non è l'unico risultato che abbiamo portato a casa. Noi ci siamo concentrati sulla necessità ovviamente di seguire e di occuparsi della protezione delle frontiere esterne quando negli anni scorsi, voi sapete, tutto il dibattito era concentrato sul tema della dimensione interna, quindi dei cosiddetti movimenti secondari. noi abbiamo chiesto e ottenuto che le conclusioni del Consiglio europeo si concentrassero sulla dimensione esterna e quindi sulla protezione dei confini esterni dell'Unione europea tenendo conto della differenza che esiste tra quei confini e particolarmente della specificità dei confini marittimi tutte queste cose voi le trovate nelle conclusioni del Consiglio europeo quindi ovviamente rispetto al passato nel quale noi abbiamo visto magari attenzione ad esempio per governare i flussi migratori che arrivavano da est la famosa rotta balcanica non abbiamo mai visto una attenzione adeguata dal nostro punto di vista da parte delle istituzioni europee verso la rotta mediterranea e non abbiamo mai visto nei documenti del Consiglio e della Commissione quello che già eravamo riusciti ad ottenere e che viene confermato e rilanciato nelle conclusioni di questo Consiglio europeo e cioè la priorità della rotta del Mediterraneo centrale il piano d'azione della Commissione sul Mediterraneo occidentale sul Mediterraneo centrale chiedo scusa che era scaturito ovviamente da una presa di posizione italiana e da diciamo una vicenda che voi avevate eseguito che era nello specifico quella della nave Ocean Viking sulla quale c'erano state c'era stato un dibattito tra noi e altre nazioni in questo Consiglio europeo nelle conclusioni del Consiglio europeo viene rilanciato quindi c'è immigrazione come problema europeo cioè la dimensione esterna quindi prima di ragionare dei movimenti interni e dei movimenti secondari si deve lavorare insieme sui movimenti primari quindi per diciamo combattere il traffico per combattere e diciamo e frenare i movimenti illegali si deve tenere specificità alla si deve considerare la specificità del confine marittimo e in particolare della rotta del Mediterraneo centrale si deve lavorare su una maggiore cooperazione significa risorse con particolarmente i paesi di provenienza i paesi di transito cito il lavoro che stiamo facendo sull'Africa che oggi sta facendo soprattutto l'Italia è un lavoro sul quale noi vorremmo ingaggiare l'Unione europea nel suo complesso oggi l'Africa è un continente che offre moltissime opportunità anche rispetto alle difficoltà che l'Europa sta incontrando penso al tema energetico non ci torno sopra perché ne abbiamo parlato tante volte crediamo che ad esempio collaborando meglio con queste nazioni e facendo una cooperazione e immaginando una cooperazione rafforzata con queste nazioni si possa anche combattere i flussi illegali e segnatamente i trafficanti di essere umani e governare l'immigrazione consentendo consentendo alle persone di entrare in Europa secondo flussi che sono definiti dai paesi membri in modo legale perché io continuo a ritenere che non sia umano mettere il tema delle migrazioni in mano a dei trafficanti e uomini in questo entra anche la vicenda del rapporto con il cosiddetto cooperation framework cioè del rapporto con chi è impegnato nelle attività di research and rescue cioè di salvataggio questo tema nelle conclusioni del consiglio europeo anche qui sapete insomma è abbastanza una novità che si discuta di questo tema e che si discuta di questo tema nell'ottica di regolamentare il funzionamento di queste attività questo torna nelle conclusioni del consiglio il tema diciamo di una di una framework cioè di una cornice in almeno tre punti diversi delle conclusioni del consiglio europeo c'è il tema dei rimpatri rafforzare la capacità dell'unione europea di rimpatriare chi non ha diritto a stare in europa e c'è altra cosa appunto molto importante che è stato oggetto di ampie consultazioni con gli altri paesi membri che non si può diciamo trattare il tema dei movimenti secondari se non si tratta il tema dei movimenti primari che è la questione che l'Italia ha posto tutte queste materie sono nei nel documento finale della riunione di ieri e credo che per tutto questo poi ripeto se volete vi dico proprio diciamo quali sono le parti ma io insomma mi pare che ci siano almeno sette otto proposte italiane che entrano in questo consiglio che abbiamo preparato dialogando con i nostri omologhi facendolo non solo nella giornata di ieri ma facendolo nei giorni scorsi ho avuto diverse telefonate con appunto i miei omologhi anche con quelli che potevano sembrare più distanti alla fine siamo riusciti a costruire un appunto un equilibrio e un documento che secondo me rappresenta una grande vittoria per l'Italia e che dimostra che diciamo quando c'è la volontà politica di affrontare dei problemi in modo pragmatico e serio si riescono a ottenere dei risultati quindi io mi appunto mi definisco come vi ho detto estremamente soddisfatta del protagonismo dell'Italia in questa lunga nella lunga giornata di ieri del protagonismo dell'Italia nei giorni che hanno anticipato questa discussione io devo ovviamente ringraziare i nostri Sherpa e tutte le persone che hanno lavorato lungamente per costruire queste sintesi però ovviamente poi la differenza la fa la capacità politica che si ha sia di costruire delle relazioni di riuscire a dialogare con tutti e di avere anche la consapevolezza necessaria per difendere i propri interessi e cercare una convergenza con gli interessi degli altri quindi una ottima giornata davvero per cui ci tenevo a raccontarvi questi risultati mi fermo qui perché non voglio essere troppo lunga se volete sono qui per le vostre domande l'unica accortezza che vi chiedo di avere è che io sono qui per discutere dei temi relativi al Consiglio europeo non perché abbia problemi su tutto il resto ma perché vorrei raccontare e parlare del lavoro che ho fatto in queste ore quindi vi chiedo cortesemente di circoscrivere le domande ai temi che sono oggetto della giornata di ieri grazie bene cominciamo con il primo blocco di domande si sono prenotati Veronica Gervaso del TG5 Michele Esposito dell'Ansa Alex Yanagev di Vista e Dabit Carretta di Radio Radicale Buongiorno Presidente buongiorno Veronica Gervaso TG5 il Consiglio riconosce che l'emergenza immigrazione richiede una risposta globale europea lei ha percepito un cambiamento di approccio ecco ma nella pratica in cosa si tradurrà come faccio rispondere Michele Esposito dell'Ansa abbiamo detto no rispondo ditemi voi sì allora andiamo per singolo ah la rispondo vabbè dai andiamo veloci guardi io non ho percepito un cambio di passo io ho ottenuto un cambio di passo ottenuto insomma diciamo abbiamo ottenuto un cambio di passo perché come dicevo in apertura alcune alcuni concetti non erano mai usciti nei documenti europei quindi ovviamente poi no cioè il i documenti del Consiglio europeo sono la cornice sulla quale poi si costruiscono le risposte no ieri con l'ambasciatore Benassi discutevamo sul fatto che almeno il 50 il 60% di quello che poi arriva come legislazione da noi in termini di recepimento esce dai documenti del Consiglio europeo per cui la cornice che si definisce è fondamentale che cosa significa significa ovviamente appunto che il dibattito principale qui non è più eh l'Italia viene lasciata da sola ad affrontare la rotta mediterranea e poi si discute dell'impossibile diciamo dei movimenti secondari e di come bisogna eh controllare le frontiere con gli altri paesi europei questo non è più l'approccio che c'è oggi l'approccio è come aiutiamo l'Italia a difendere il suo pezzo di confini esterni dell'Unione Europea la aiutiamo con risorse per fare cooperazione che io credo sia una cosa intelligente da fare indipendentemente dal tema migratorio per quello che spiegavo sul ruolo che secondo me oggi l'Africa ha e sulla presenza necessaria dell'Europa in Africa anche perché diciamo sono altri gli attori che in questi anni sono stati presenti e secondo me non è un'ottima notizia ecco quindi come aiutiamo l'Italia come aiutiamo l'Africa con movimenti legali come cerchiamo di lavorare per stabilire cosa sia salvataggio e cosa sia altro come complessivamente governiamo questa materia a sud mentre lo facciamo nel resto d'Europa in questi anni qualcosa sul resto abbiamo visto a sud non abbiamo visto niente sulla rotta del Mediterraneo quindi il cambio di passo è evidente è totale e ovviamente noi da qui lavoreremo per costruire poi le risposte concrete che stanno su un altro tavolo le nostre iniziative e proposte da questo punto di vista sono moltissime ma per me e quindi diciamo arriveremo sui tavoli competenti molto preparati però in assenza di questa cornice sarebbe impossibile discutere in qualsiasi altro tavolo Michele Esposito dell'Agenzia ANSA Buongiorno Presidente la giornata di ieri è tuttavia iniziata con l'emerge di nuove tensioni tra lei e il Presidente Macron sull'invito al Presidente Ucraino Paolo Demir Zemersky all'Eliseo ieri notte Macron ha confermato che non c'è stato nessun bilaterale tra lei e il Presidente francese quindi le chiederei se lei pensa che da qui ai prossimi giorni ci sia possibilità di una ricocitura con l'Eliseo e se nonostante questo diciamo un nuovo botta e risposta piuttosto piccato Italia e Francia confermano l'accordo sull'invio del sistema Samp-T all'Ucraina grazie guardi parto dalla seconda parte assolutamente sì nel senso noi siamo da tempo impegnati nella diciamo una joint venture nella collaborazione su una materia che è molto importante per il Presidente Zelensky per l'Ucraina credo che tra l'altro si stia procedendo in maniera molto veloce e credo che insomma nei prossimi giorni spero saremo in grado diciamo di definitivamente insomma di dichiarare che insomma siamo pronti ecco rispetto al sistema Samp-T riguardo a quello che è accaduto ieri guardi io confesso che diciamo vivo alcune letture italiane diciamo le trovo un po' provinciali non so come spiegarlo nel senso che il tema non è gelo problemi il tema secondo me è che l'Italia è una nazione abbastanza centrale in Europa da dover dire quando su qualcosa non è d'accordo cioè rispetto alla lettura che io ho visto in passato per cui per noi era sufficiente stare in una foto e pensavamo che questo avrebbe definito la nostra centralità la nostra politica estera la nostra capacità di incidere io penso che le cose non vadano così cioè il tema non è se stai o non stai in una foto ve lo dico perché diciamo la mia presa di posizione sull'invito di Zelensky a Parigi è stata letta come una diciamo risposta al fatto che l'Italia non era stata invitata se io fossi stata invitata avrei diciamo consigliato di non fare quella riunione perché? perché a noi sull'Ucraina interessa soprattutto dare un messaggio di compattezza cioè signori parliamoci chiaro non è facile per nessuno di noi gestire il tema dell'Ucraina con la nostra opinione pubblica le persone sono spaventate giustamente sono preoccupate e quello che noi facciamo per sostenere l'Ucraina ritenendolo giusto sul piano del consenso può anche non essere diciamo la soluzione migliore però tutti abbiamo privilegiato quello che era giusto rispetto a quello che era utile per il nostro consenso personale quello che è utile scusate quello che è giusto e quello che era importante della giornata di ieri era la foto dei 27 paesi europei con Volodymyr Zelensky perché è il messaggio più forte che puoi dare anticipare quella compattezza con una riunione che privilegiando e questo io lo posso capire le opinioni pubbliche interne di alcuni rischiava di indebolire diciamo l'opinione pubblica complessiva rispetto a questa materia secondo me era politicamente sbagliato per cui vi prego usciamo dal tema di c'eravate o non c'eravate nella fotografia a me non interessa essere nella fotografia una cosa che non condivido non l'ho condiviso ritengo di doverlo dire ma non vuol dire che si crei del gelo o anche questi rapporti col presidente francese delle volte lavoriamo insieme delle volte siamo meno d'accordo ma su rapporti politici mi pare che vengano raccontati come se stessimo alle medie cioè fosse un problema personale io credo che non andasse in nessun modo indebolita la forza dell'immagine di ieri lo penso e l'ho detto e questo ha prodotto un isolamento per l'Italia signori vi segnalo a Parigi c'erano due presidenti europei e non ce n'erano altri 25 per cui non credo che il tema sia l'Italia si isola perché dice non è d'accordo credo che io sono una persona franca ho sempre detto le cose come le penso e questo non compromette i miei rapporti ma devo segnalare quando una cosa secondo me come gli altri segnalano a noi quando non sono d'accordo e mi pare che in Italia siano tutti contenti ecco allora come siamo tutti contenti e siamo sempre ad ascoltare che qualcosa all'estero dicono di noi vi segnalo che secondo me è importante anche far ascoltare la voce italiana all'estero perché non siamo da meno alexander janavigev di vista salve presidente alexander janavigev agenzia vista intanto le volevo chiedere cosa vi siete detti con Zelensky in questo colloquio che avete avuto a margine del consiglio e poi le volevo chiedere secondo lei quindi questa posizione di cui lei ci parlava adesso è stata in qualche maniera lei ha sentito un po' una condivisione dagli altri leader che appunto non hanno partecipato questi 25 e al momento secondo lei con la Francia quanti gradi sono di temperatura? Che è comunque meglio della domanda sul tempo circolare o lineare allora partiamo dalla fine dunque che cosa ci siamo detti con Zelensky presidente Zelensky ci teneva ovviamente a ringraziare ancora l'Italia per il grande impegno che sta portando avanti a 360 gradi come dicevamo è molto molto sensibile alla vicenda al tema del Samti su cui pure insomma abbiamo potuto dare delle rassicurazioni mi ha nuovamente invitato a Kiev dove appunto tiene particolarmente che ci sia una nostra presenza adesso insomma stiamo lavorando per capire come organizzarla e poi insomma ovviamente abbiamo discusso anche di altre necessità che l'Ucraina ha che riguardano sia la questione militare ma anche quella civile io ricordo che l'Italia ad esempio è stata protagonista di recente nell'affrontare per esempio i bisogni legati ai generatori di elettricità che gli ucraini avevano di fronte ai bombardamenti russi verso le infrastrutture strategiche e anche lì penso che l'Italia abbia giocato un ruolo molto importante e di questo gli ucraini sono pienamente consapevoli la domanda sui gradi guardi non so quanti gradi ci siano qui ma insomma non ci sono ripeto non io oggi ho visto una foto no c'ho la Meloni sempre con questa faccia un po' e c'era ma vedi il cielo della Meloni c'è signori miei siamo stati lì cinque minuti un minuto prima io e Macron ci siamo stretti la mano davanti agli stessi fotografi ci siamo sorrisi ci siamo stretti la mano dopo stavamo chiacchierando con Xavier Betel il presidente di Lussemburgo su non ricordo quale vacanza che stava facendo in Francia tutto si può raccontare ma sono rapporti normali sono rapporti normali certo ripeto rispetto a chi pensava in passato che la politica estera italiana dovesse essere semplicemente farsi dare la pacca sulla spalla e dire quanto sei bravo e poi diciamo non considerare i tuoi interessi io penso che gli interessi dell'Italia diciamo siano più rilevanti e quindi credo di doverli difendere come considero normale che Macron difenda gli interessi francesi che Scholz difenda gli interessi tedeschi che Sanchez difenda gli interessi spagnoli perché questa è la discussione che poi noi abbiamo cioè l'approccio italiano secondo me era sbagliato quando si riteneva che no appunto facciamo la foto insieme poi decidete voi no no diciamo io vado un po' più al sodo a me interessa il sodo delle cose a me interessa no la fotografia la melonia e poi io di faccia ne faccio varie a me interessa questo e questo dice tutt'altro rispetto a un presunto isolamento italiano questo dice che c'è un'Italia che sta a dialogare con tutti è un'altra cosa e anche qui la meloni sceglie vicegrada io diciamo come fanno tutti i partiti europei sono presidente dei conservatori europei prima delle riunioni del consiglio europeo tendenzialmente ci si vede con i primi ministri del proprio partito che nel caso specifico sono Peter Fiala della Repubblica cieca e Mateus Morawieschi dalla Polonia l'avevamo fatto l'altra volta lo abbiamo fatto ieri e quindi non si tratta allora io sempre con questi con questi metodi sempre un po' presunti bambineschi allora non mi volete nella foto allora io vado a parlare con i polacchi non lo so io neanche a dieci anni ragionavo così ok scusatemi ma io non ho mai ragionato così in vita mia però le dico i buoni rapporti che io ho con alcune nazioni sono stati utili qui perché quando noi abbiamo sbloccato l'accordo sulla web taxation che tenevano bloccati Polonia e Ungheria secondo lei chi è stato a sbloccare quell'accordo è esattamente quello che tento di spiegare quando si dice che c'è un'Europa di serie A e un'Europa di serie B secondo me non c'è un'Europa di serie A e un'Europa di serie B secondo me chi pensa che l'Europa debba essere un club nel quale c'è diciamo chi conta di più e chi conta di meno sbaglia perché indebolisce l'Europa secondo me quando si dice che l'Europa ha una prima classe una terza classe vale la pena di ricordarsi del Titanic perché poi quando la nave affonda non importa quanto è pagato il biglietto per cui io penso che banalmente si debba poter dialogare con tutti cercare di capire il punto di vista di tutti cercare delle sintesi questo noi lo stiamo facendo nella discussione di ieri le mie alleanze tra virgolette le convergenze erano continuamente diverse e quindi non c'è non credo che sia più forte la posizione di dire noi ci mettiamo d'accordo prima su tutto e poi gli altri si adeguano penso che possa essere anche forte la posizione di dire vediamo i paesi con i quali posso convergere su una determinata materia e tenersi i rapporti aperti con tutti questo è il modo con cui io affronto la riunione del Consiglio Europeo mi pare con risultati che sono discreti David Carretta Radio Radicale grazie Presidente David Carretta Radio Radicale scusate con il computer proprio per citarle i testi una prima domanda sulla conclusione a proposito dell'economia e sulla questione della flessibilità nell'utilizzo dei fondi in particolare i fondi della coesione perché sono una fetta importante in termini di miliardi che potrebbero essere usati ma non c'è il rischio di togliere quei miliardi alle regioni del sud a cui sono stati destinati spesso non diciamo a spenderli tutti ma alla fine li usiamo per altre urgenze rispetto alle regioni del sud la seconda domanda riguarda le conclusioni quello che lei ha rivendicato in termini di testi giugno 2018 conclusione del consiglio europeo la politica migratoria è una sfida non solo per il singolo stato membro ma per l'Europa tutta paragrafo 3 per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo centrale dovrebbe essere maggiormente intensificati gli sforzi per porre fine all'attività dei trafficanti dalla Libia e altri paesi l'Unione Europea resterà al fianco dell'Italia e di altri paesi in prima linea e ultimo passaggio c'è anche la questione delle navi delle ONG conclusione del consiglio europeo altri suoi predecessori hanno sempre detto piani per l'Africa compact eccetera concretamente cosa cambia da domani grazie allora sul tema dei fondi di coesione no non c'è questo rischio perché noi non stiamo ragionando di modificare diciamo anche qui la la cornice degli aiutisti di modificare le norme relative ai fondi di coesione i fondi di coesione verranno comunque destinati a quello a cui sono destinati il punto è concentrarli sulle materie che sono più necessarie in questo momento sulle priorità che sono più necessarie quindi non è che prendiamo i fondi di coesione e li mandiamo da un'altra parte in altre regioni il punto è capire se oggi si possono insieme al Repower You insieme al PNRR facendo un ragionamento che è complessivo nell'ambito ovviamente di regole che esistono e che diciamo non non mettiamo in discussione se si possa costruire diciamo uno spazio fiscale che ci consente di concentrare risorse su priorità che noi oggi abbiamo segnatamente tutto il tema della competitività delle imprese tutto il tema che è legato anche no alla transizione ma facendolo sempre dando la priorità ovviamente a quelle che sono per quello che riguarda per esempio i fondi di coesione i territori maggiormente interessati per quello che riguarda il tema del Consiglio Europeo intanto una cosa è dire l'Europa aiuterà l'Italia nel Mediterraneo una cosa è avere un piano d'azione della Commissione Europea sulla rotta del Mediterraneo centrale cambia molto perché il punto è come dicevamo il Consiglio Europeo diciamo stabilisce una cornice dopodiché che tipo di concretezza si dà quella cornice è quello che fa la differenza noi siamo partiti dalla concretezza e poi l'abbiamo rafforzata al Consiglio Europeo perché noi con la posizione italiana per esempio sulla rotta del Mediterraneo centrale abbiamo fatto sì che la Commissione Europea elaborasse un piano d'azione dopodiché abbiamo scritto nella conclusione del Consiglio Europeo che quel piano d'azione va implementato e messo in moto questo vuol dire avere delle iniziative concrete rispetto a dire non lasceremo solo l'Italia perché non lasceremo solo l'Italia ma poi io non l'ho vista questa cooperazione oggi io le dico che questa cooperazione sono convinta che la vedremo poi sono battaglie sono battaglie sono discussioni perché le risorse per l'Africa però già il fatto che si dica vogliamo cooperare di più consente a me nel momento a me a noi nel momento in cui chiaramente cerchiamo di risolvere questo problema in Africa di prendere le risorse che ci sono e cercare di drenarle verso sud invece che verso est perché le ricordo che la Commissione Europea l'Unione Europea in questi anni ha investito 6 miliardi di euro in un accordo con la Turchia per cercare di gestire la rotta balcanica e io ho un obiettivo simile per i paesi del Nord Africa poi chiaramente bisogna lavorarci ma questo oggi io ho diciamo gli elementi per rivendicarlo e anche per quello che riguarda il tema delle organizzazioni non governative eccetera allora lì c'era un tavolo di lavoro che si chiama gruppo di contatto europeo che praticamente non lavorava più cioè è stato costituito ma poi a un certo punto non si è più riunito quindi si è iniziato a fare un lavoro e poi si è fermato quel gruppo di contatto è stato ripreso dopo il caso dell'Ocean Viking quindi grazie a una posizione italiana e sulle conclusioni del Consiglio europeo parla di rilancio del gruppo di contatto europeo su ricerca e salvataggio in uno dei tre punti che trattano questa materia anche questo è un fatto concreto perché vuol dire riprendere un lavoro che si era diciamo formato sul tema della regolamentazione materia molto complessa da discutere nel Consiglio europeo ma che io ho posto con forza e ovviamente a quel gruppo di contatto noi ci presenteremo con le nostre proposte che in Italia abbiamo già diciamo abbiamo già approvato e faremo la nostra avvieremo la nostra interlocuzione per cercare di estendere quella normativa agli altri paesi che seguono questa materia mi pare che insomma sì rispetto a diciamo gli intendimenti del passato ci siano importanti passi in avanti sul piano della concretezza e della volontà prego Francesco Maesano Tg1 prego i colleghi di fare una sola domanda anche per rispetto degli altri che altrimenti non riuscirebbero a farla grazie grazie Presidente rimango sulla questione dei migranti la presidenza del Fonterlein ha parlato di una solidarietà effettiva sui migranti al di là dei fondi per la difesa dei confini ecco lei ha accolto questo aspetto nel consiglio ieri soprattutto se pensa che questo sia un frame nel quale lavorare per il prossimo consiglio grazie ovviamente ci dobbiamo continuare a lavorare e tra l'altro non so se il Presidente Michel ha già fatto la sua conferenza stampa ma credo che dirà secondo quello che ha detto ieri in consiglio che noi continueremo a valutare anche nel prossimo consiglio europeo diciamo questo lavoro come sta andando avanti concretamente questo lavoro che riguarda particolarmente i temi migratori quindi certo che è una situazione che va monitorata nel tempo e sulla quale anche gli aggiustamenti necessari li porteremo ogni qualvolta lo riterremo sul tema della solidarietà effettiva guardi io ho trovato in realtà molto più pragmatismo di fronte a temi semplici che abbiamo posto sulla questione migratoria di quanto non ne trovi in altri dibattiti il problema delle migrazioni è un problema che hanno tutti il problema di non governare i flussi migratori è un problema che hanno tutti e credo che tutti lo vogliano affrontare con pragmatismo io non ho visto posizioni come posso dire ideologiche no? come pure insomma in molta parte del dibattito delle volte su questa materia si è abituati a vedere io ho visto che di fronte a una spiegazione chiara che per esempio io ho tentato di fare di che cosa accade sulla rotta mediterranea di cosa sia solidarietà e di cosa non sia solidarietà ci sia molta convergenza io ho fatto ieri una diciamo una spiegazione del nostro problema insomma di come io ritengo che lasciare nelle mani di trafficanti di esseri umani la gestione di chi debba e di chi non debba arrivare sui nostri confini non abbia nulla a che fare con la solidarietà non abbia nulla a che fare con il diritto internazionale non abbia nulla a che fare con la legalità e oltretutto è un problema di sicurezza in un momento nel quale noi siamo nel mezzo di un conflitto e facciamo finta di non vedere che per esempio in tutta la zona del Sahel che oggi è diciamo purtroppo vittima di forti pressioni destabilizzatrici che è diciamo zona di transito quando non di partenza di alcuni di questi migranti per esempio sono presenti i mercenari della Wagner se si mette insieme questo con il fatto che diciamo il trasferimento di queste persone è organizzato da organizzazioni criminali io penso che anche la materia della sicurezza in questo ci entri perché scusatemi quando c'è stato il problema del grano Russia Ucraina qualcuno giustamente riteneva che una strategia russa potesse essere quella di creare di indurre una crisi alimentare in Africa per poi utilizzare diciamo la destabilizzazione migratoria in Europa credo che queste materie vadano affrontate con questo questa capacità diciamo di chiamare le cose con il loro nome allora io penso che sia arrivato il momento e l'ho detto al Consiglio Europeo di stabilire il principio che non possono essere i criminali a fare la selezione d'ingresso in Europa questo lo dobbiamo fare noi significa ovviamente per i rifugiati significa anche avere la capacità di distinguere due cose che sono molto diverse da tempo i rifugiati e l'immigrazione no però per uno e per l'altro cioè sia per il tema dei rifugiati sia per il tema delle migrazioni illegali io credo che con i paesi africani si possa lavorare molto meglio cioè per paradosso e anche questo paradosso avrebbe più senso che noi nei consolati che abbiamo presenti in Africa dicessimo se volete fate le vostre richieste se avete il diritto verrete accolti se ci sono possibilità diciamo in termini di migrazione legale di lavoro regolare di dare una possibilità sarete accolti ma se provate a passare illegalmente non sarete accolti non sarebbe questo un modo più umano di gestire questa materia invece di dire che chi può arrivare in Europa e chi ha 3000 euro da dare a uno scafista perché se sei povero ugualmente come chi parte ma non hai quei 3000 euro che vuol dire che sei ancora più povero e non parti sono materia di pragmatismo che io ho posto un grande serenità e mi pare che persone molto pragmatiche al tavolo fossero sostanzialmente d'accordo Marco Iasevori a venire Sì Presidente eccoci le chiedo la posizione italiana sull'eventualità di un invio di caccia all'Ucraina anche per quanto riguarda eventuali autorizzazioni che l'Italia deve dare per forniture di altri e se ha timori se condivide alcuni timori che ci sono anche nella sua maggioranza su un salto di qualità nella fornitura di armi guardi noi siamo stati finora disponibili a fare la nostra parte a 360 gradi questo dipende diciamo da un equilibrio della comunità internazionale e quindi su questo diciamo preferisco non dire di più ma noi ci siamo ci siamo sempre stati e daremo una mano quando serve una mano dopodiché sui timori che ho più volte sentito devo dire più dall'opposizione che dalla maggioranza attualmente sul fatto che sostenere anche militarmente l'Ucraina sarebbe diciamo una precondizione per appunto per una escalation della guerra io su questo non sono d'accordo assolutamente cioè e l'ho spiegato altre volte e lo ripeto volentieri c'è una sola possibilità che alla fine diciamo ci possa essere un tavolo negoziale c'è una sola possibilità e quella possibilità è data dall'equilibrio delle forze in campo se noi non difendessimo l'Ucraina non avremmo la pace avremmo un'invasione che è una cosa diversa e quell'invasione differentemente da quello che si pensa dal mio punto di vista porterebbe la guerra più vicino a casa nostra non più lontano quindi quello che noi abbiamo fatto in questi mesi è aiutare l'Ucraina a diciamo difendersi il che produce evidentemente anche una sorta di stallo nello scontro bellico e ovviamente questa è l'unica possibilità che abbiamo a un certo punto di creare le condizioni per cui si voglia cercare un'altra soluzione per cui semplificando secondo me è chi aiuta l'Ucraina che sta lavorando per la pace mentre chi dice che l'Ucraina non va aiutata lavora intanto diciamo per ottenere l'impossibilità di una nazione sovrana di difendere quella sovranità e quella libertà il che per me già non si può fare per come io vedo il mondo ma soprattutto lavora per paradosso o rischia di produrre con le sue posizioni l'esatto contrario di quello che sta dichiarando e cioè una guerra che si propaga e non che si ferma Brahim Marad Agenzia Italia Buongiorno Presidente io torno al tema economia vorrei chiederle il prossimo vertice probabilmente a marzo si parlerà più nel dettaglio nel vivo sia del piano industriale europeo ma anche della riforma del patto di stabilità la domanda è come gli stati anche per garantire la tutela dell'industria la competitività l'integrità del mercato unico possano gestire nei negoziati per il patto manovre sul debito che ad esempio permettano delle esenzioni sulle soglie di debito per gli investimenti a tutela dell'industria ecco grazie grazie a lei guardi questo è un grande tema che noi porremo nella discussione sul patto di stabilità cioè è evidente che tutte le discussioni che noi stiamo facendo rischiano di non essere così efficaci se non consideriamo gli investimenti che le nazioni dovranno fare saranno chiamate a fare e che è giusto e bene che facciano nei prossimi anni nella discussione sul patto di stabilità e crescita patto di stabilità e crescita negli scorsi anni è stato più un patto di stabilità che un patto di crescita quello che vogliamo fare noi adesso è avere più un patto di crescita che un patto di stabilità ok e questo significa cosa significa che ovviamente nel calcolo del rapporto sulla stabilità delle nostre conti e delle nostre risorse devi tenere in considerazione il differente impatto che gli investimenti hanno in termini moltiplicatori rispetto a quello che ha la spesa corrente e quindi ad esempio tutta la discussione che è stata lunghissima ieri che è stata una delle questioni sulle quali ho più diciamo dovuto difendere la mia posizione quindi sul tenere in considerazione i cofinanziamenti della flessibilità dei fondi europei chiedo scusa nella nella dibattito sulla governance è figlia di questo ragionamento quindi c'è un'interlocuzione che è iniziata la base di partenza è una base di partenza discreta nel senso ne stiamo discutendo abbiamo discusso io ho parlato più volte anche con il commissario Gentiloni che è il commissario competente ma chiaramente il nodo della questione è lì cioè o si riesce a capire l'importanza che in questo momento hanno gli investimenti anche delle risorse che l'Unione Europea ha messo in campo e quanto sia importante poter spendere quelle risorse per produrre una crescita economica senza la quale non puoi avere neanche stabilità perché guardi a me chiedono sempre ma come si fa il debito italiano l'unico modo per rendere sostenibile il debito italiano è produrre crescita è l'unico modo serio noi chiederemo ovviamente un patto di stabilità e crescita che sia particolarmente concentrato sul tema della Grecia Gabriele Martelloni Rai News 24 per cortesia una domanda sola grazie buongiorno Presidente una delle proposte forti che aveva portato l'Italia sul versante economico era quello di arrivare a un fondo sovrano europeo è una dimensione di prospettiva come lei ha ricordato più volte ci sono stati che frenano su questo dopo aver partecipato a questo vertice e parlato con tanti leader ha trovato segnali incoraggianti insomma è ottimista che si possa arrivare a questo o no? grazie diciamo che intanto sono contenta di del fatto che questa materia non era scontata guardi sia entrata nelle conclusioni del Consiglio europeo io la stavo cercando ma qui non facilissimo e quindi ovviamente anche qui c'è un margine importante per c'è un margine importante per arrivare a questo obiettivo con la stessa franchezza le dico che non è una discussione facile questo lo dobbiamo sapere ci sono nazioni che sono molto chiuse rispetto a questa ipotesi però non credo insomma che sia uno schema diverso da quello che magari abbiamo visto quando poi è nato il Next Generation EU si tratta anche lì di cercare piano piano un passo avanti ciascuno di arrivare a soluzioni che possano essere condivise io credo che la valutazione vada fatta partendo da questo ragionamento se noi pensiamo che in un momento come questo con il mercato unico che abbiamo e con le nostre economie interconnesse immaginando provvedimenti che mettono più in sicurezza qualcuno e meno in sicurezza qualcun altro non ci rimettiamo tutti stiamo facendo una scelta sbagliata quindi c'è l'allentamento degli aiuti di Stato c'è la flessibilità sui fondi esistenti questa risposta produce un equilibrio questa è una è una verifica che va fatta a breve dopodiché io credo che se questa soluzione non dovesse essere sufficiente inevitabilmente si dovrà andare o si tenderà ad andare verso un fondo sovrano perché ovviamente se alcune nazioni in particolar modo ma tutte cominciano a subire magari perché non c'è il famoso level playing field cioè le pari condizioni o magari perché le risorse diciamo lo spazio fiscale che hanno aperto può non essere sufficiente siccome non conviene a nessuno indebolire l'economia europea credo che questa discussione possa tranquillamente avere il suo diritto di cittadinanza è un tema che noi intendiamo portare avanti con convinzione ma sappiamo anche che è una diciamo è una lunga interlocuzione che andrà che andrà portata avanti e che abbiamo la resilienza per portare avanti Alberto Ferrarese Ascanius Buonasera Presidente Salve buonasera un tema che magari non è stato toccato in consiglio ma sia ieri che oggi è stato chiesto all'Italia di chiudere la partita dei balneari che è aperta da troppo tempo non so se su questo ci può dare una tempistica e se invece nel dibattito le hanno ricordato la questione del MES che l'Italia deve approvare No nel dibattito non è uscita la questione del MES e sulla vicenda dei balneari lei sa come la penso insomma io credo che ci siano delle interlocuzioni che si possono ancora avviare a partire dal tema storico della mappatura delle nostre spiagge per capire quale sia appunto l'effettiva scarsità del bene per ragionare nel senso di ovviamente difendere anche un mondo produttivo che secondo noi è strategico adesso vedremo che cosa insomma vedremo nelle prossime ore anche con la discussione che c'è in Parlamento quali saranno le tempistiche ma sicuramente è uno dei dossier sui quali siamo impegnati anche in una interlocuzione con la Commissione Europea nel tentativo di trovare delle soluzioni Angela Mauro ha finito un posto Sì buongiorno Presidente a questo punto io vado sul nazional popolare perché c'è stata grande polemica in Italia su Zelensky a Sanremo prima un video poi una lettera e visto che ieri Macron nella risposta che le ha dato ha anche detto nella seconda parte della risposta è Zelensky a scegliere i format degli incontri ha detto così ha detto Zelensky a scegliere i format degli incontri degli interlocutori le chiedo della polemica su Sanremo un suo pensiero diciamo una sua riflessione visto che non mi pare abbia parlato su questo e se pensa che è collegata se pensa che questo mancato intervento siccome sento molte analisi in Italia anche di diciamo giornalisti punto di riferimento della destra se pensa che il mancato intervento di Zelensky abbia un po' alienato i rapporti con Kiev a Sanremo no assolutamente non lo penso guardi sulla vicenda di Zelensky a Sanremo lei sa come la penso sull'Ucraina insomma sa quanto io sia attenta alla causa Ucraina non è mai facile far entrare diciamo la politica in una in una manifestazione come Sanremo poi c'entra sempre però è sempre un tema molto delicato io ovviamente avrei preferito che ci fosse credo che la lettera alla fine sia stata comunque perché l'unica cosa che mi è veramente dispiaciuta è che su un tema del genere ci sia stata una polemica ho apprezzato la scelta del presidente Zelensky credo che fosse comunque importante una sua presenza anche attraverso una lettera ma assolutamente non credo che intanto perché i nostri rapporti non sono alienati segnalo e in secondo luogo perché la questione mi pare francamente molto secondaria sul piano della politica internazionale diciamoci la verità poi noi questi temi ci appassionano più delle cose diciamo più serie ma non penso che fuori dai nostri confini nazionali il ruolo di Sanremo abbia lo stesso impatto che ha nel nostro dibattito interno comunque i rapporti non sono affatto alienati e su quello che ha detto Macron non le so dire guardi le posso dire che non era il punto di vista di Zelensky Federica Ionta giornale radio di Rai così chiudiamo grazie buongiorno vorrevo tornare ai migranti e alle conclusioni non teme che concentrarsi sulla difesa dei confini esterni possa mettere da parte il discorso della redistribuzione che rimane su base volontaria come ha detto la von der Leyen il regolamento di Dublino non si tocca grazie guardi no nel senso che punto primo la redistribuzione non è mai stata la mia priorità e non è mai stata la mia priorità perché la redistribuzione è un come posso dire è uno specchietto per le allodole per noi nel senso che dobbiamo ricordarci che ogni forma di redistribuzione si concentra su coloro che hanno una qualsiasi copertura del diritto internazionale significa convenzione di Ginevra protezione sussidiaria dei migranti che sbarcano in Italia più o meno parliamo massimo del 25% quindi concentrarsi sul tema della redistribuzione rispetto al tema della dimensione esterna per noi in realtà diciamo ha un'efficacia assolutamente limitata dopodiché gli accordi di redistribuzione finora non solo sono stati volontari ma non hanno funzionato perché io le ricordo che la scorsa estate fu siglato un accordo sulla redistribuzione che prevedeva la redistribuzione di circa 8 mila migranti sbarcati in Italia coperti dalle protezioni nei paesi che volontariamente accettavano di farlo e sa quante persone sono state redistribuite a distanza di 8 mesi? Meno di 200 su 100 mila persone che sono entrate temo che l'impatto sia un po' minimo quindi io credo che la questione vada affrontata da un altro punto di vista e poiché dicevo tutti hanno il problema della migrazione io ho sempre ritenuto anche quando ero fuori dal Consiglio Europeo come consiglio che davo ai governi in carica che il tema della ridistribuzione ho sempre ritenuto che diciamo avrebbe trovato una minore disponibilità da parte dei componenti del Consiglio piuttosto che dire aiutiamoci tutti a gestire il flusso in maniera seria perché noi non siamo l'unica nazione d'Europa che governa una parte dei confini esterni dell'Unione Europea gli altri quei confini in molti casi li difendono in maniera più efficace anche perché maggiormente aiutati ma mentre loro difendono quei confini esterni la pretesa poi di dire noi non lo facciamo un po' perché non ci aiutate un po' perché non lo vogliamo fare perché questo è stato negli anni passati e poi dovete aiutarci a redistribuirli secondo me diciamo difficilmente può trovare una grande convergenza infatti non l'ha trovata l'ha trovata in alcuni casi a parole ma mai nei fatti quindi io credo che vada cambiato il punto di vista sull'approccio di dire signori è inutile che voi continuate a interrogarmi sui movimenti secondari se io non ho il sostegno diciamo sulla gestione dei movimenti primari perché l'unico modo di fermare o di gestire meglio i movimenti secondari è passare dai primari e questo è l'unica cosa che mette d'accordo tutti chi ha il problema dei movimenti primari e chi ha il problema dei movimenti secondari cioè io su questo ho avuto un'interlocuzione molto proficua con Mark Rutte primo ministro olandese storicamente diciamo no supposizioni che non sono ecco quelle più vicine all'Italia ma una persona intelligente una persona pragmatica ci si siede si trovano delle sintesi l'abbiamo fatto però si deve fare su proposte ragionevoli ecco bene grazie a tutti mi dica mi dica dobbiamo andare via però si si dai nelle conclusioni si parla esplicitamente a proposito della regolazione degli stati di un allentamento anche la possibilità di concedere l'agevolazione fiscale dall'altra parte si parla della possibilità dei fondi di cui ci ha detto io vi chiedo semplicemente ma questo vorrà dire che le industrie italiane ad esempio potranno beneficiare di agevolazioni fiscali finanziate con i fondi europei di vario tipo così come avranno i tedeschi oppure noi aspetteremo di metterci d'accordo con la commissione su varie possibilità di sviluppare i investimenti da una parte d'altra guardi io sono questo ovviamente poi è oggetto di tutte le interlocuzioni che noi avremo ma io sono stata molto chiara anche con la commissione sulle pari condizioni per le nostre aziende e quindi si dovranno insieme trovare non saranno i fondi di coesione o saranno in particolare saranno i fondi del pieno insomma è evidente che quello che possono fare gli altri con uno strumento diverso dobbiamo poterlo fare anche noi grazie buon lavoro grazie a tutti